Libra è basata su una storia vera, una storia futura come ci piace dire, ovvero un qualcosa che forse la società umana si troverà a fronteggiare tra una ventina d'anni, ovvero l'inquinamento satellitare. Che cos'è l'inquinamento satellitare? Noi usiamo tutti i giorni i nostri device per andare nei posti, usiamo i nostri device per avere ricerche geolocalizzate basate su dove siamo, senza renderci conto che il continuo lancio di satelliti da parte dei vari baroni dello spazio che si stanno anche moltiplicando, non sono solo Elon Musk o Jeff Bezos di Amazon, questo continuo lancio di satelliti sta creando una cortina, si calcolano fra una ventina d'anni la possibilità che ci possano essere più di centomila satelliti in orbita bassa. Libra è una storia molto semplice, ambientata nel futuro, in cui si immagina un semplice impiegato di una multinazionale che scopre degli strani messaggi all'interno delle pubblicità che sembrano collegati a una strana epidemia che anche sua moglie ha. La storia di Libra è semplicemente di questa micro squadra fatta di questo Virgil, questa bice che è una ragazzina molto particolare e questa intelligenza artificiale chiamata Ed, che è presente sul palco tramite ologrammi che indagano su questi fotogrammi misteriosi. La creazione della colonna sonora di Libra parte prima di Libra in realtà perché sono un po' di anni che io ho una formazione come musicista, partirei come musicista e sono anni che cercavo di trovare un connubio tra la musica e la fantascienza. Già nel 2013 avevo assieme ai colleghi degli Eterno, questo gruppo bizzarro che si chiama eterea post bong band avevamo creato un disco sulla sequenza di Fibonacci che era piaciuto agli ambienti accademici, purtroppo sembra solo a quelli e ci aveva permesso insomma di anche presentare questo disco all'interno di convention di matematica di tutto rispetto. Qualche anno fa abbiamo fatto una campagna di crowdfunding per girare un cortometraggio di fantascienza e creare una colonna sonora. La colonna sonora ha avuto una gestazione molto lunga che ha appunto coinvolto anche Enrico Gabrielli, un amico e insomma collega che suonò già in dischi vecchi e il caro Nicola Manzan che è insomma un bravissimo arrangiatore. Abbiamo creato in mesi una colonna sonora anche utilizzando per dire un'arpa classica gigante che solo portarlo giù in studio è stata una cosa veramente quasi impossibile e abbiamo coinvolto un sacco di persone per dare una sonorità di fantascienza ovviamente anche lì c'è stato un processo di scrittura molto molto lungo. Nel momento in cui è nata quasi velocemente perché prova a immaginare c'è stato c'è stato il covid quindi le attività musicali tutte ferme l'unica roba che che c'era nella mia vita erano questi questi questa possibilità di fare degli spettacoli di fantascienza per cui ho iniziato a prendere delle parti e nel momento in cui ho semplicemente preso della musica ovviamente rimontata risuonata ricreata e l'ho messa con alcune immagini di Libra mi sono reso conto che l'essenza della fantascienza c'era in entrambi i progetti e quindi era perfetta quindi sono stati ricreati ovviamente risuonati e riadattati molte molte parti però in sostanza questo Nord Walkers OST si chiamava il questo disco si è tramutato nella colonna sonora di Libra e ovviamente assieme alla colonna sonora poi c'è stato tutto il lavoro di sound design perché la domanda è sempre questa che suono è quello tecnologico del futuro in questa grande parete olografica che è una parete olografica una user interface con cui i protagonisti interagiscono che suono avrà che suoni possono avere fra vent'anni quindi si ritornerà al vecchio all'organico o si andrà ancora più avanti sul digitale e quindi si è dovuto fare un pochino di ecco di brainstorming anche su queste cose ma credo che siamo arrivati a un buon risultato